Avere comunque un momento di stress, di periodo stressante come quello della guerra, con il pensiero eventualmente dei rincari, delle situazioni un po' anche che in questo momento portano ad avere soddisfazioni al cuore, sicuramente è una condizione che favorisce quelli che sono gli arresti cardiaci piuttosto che altre situazioni di scompenso. La pace fa bene al cuore, è questo il tema del concorso di idee per il bozzetto del premio della terza edizione del Saracino nel cuore. Quest'anno siamo alla terza edizione e quindi sarà anche un momento per premiare il bozzetto migliore con una borsa di studio per creare nuove opportunità agli studenti che lavorano e studiano sul nostro territorio. Si tratta di un progetto ideato dall'Ordine delle Professioni Infermieristiche con l'obiettivo di formare 40 persone all'uso del defibrillatore cardiaco e alle pratiche di rianimazione cardiopolmonare. Porta avanti il progetto per la città e il progetto per la defibrillazione, porta avanti insieme a quartieri e a una parte importante, insieme a Saracino, che credo sia la cosa più importante per la città, è una bandiera per me fondamentale, quindi grazie a tutti, noi siamo sempre presenti, romperemo le scatole ai cittadini la mattina e la sera, ma questa è la strada unica per poter migliorare le performance sanitarie. I partecipanti al corso di formazione si cimenteranno come sempre in una sfida al miglior massaggio cardiaco, a realizzare il trofeo cuore d'oro agli studenti dell'Istituto Tecnico Professionale Margaritone. I nostri ragazzi orafi sono bravissimi, quando gli dai un compito così si entusiasmano e loro hanno fatto 25 bozzetti per l'ordine degli infermieri per questo bellissimo progetto che è il Saracino del Cuore.